La Commissione europea ha adottato oggi il programma regionale Puglia per il 2014-2020 per un piano complessivo di investimenti di oltre 7 miliardi. Della cifra totale 3 miliardi e mezzo arrivano da Bruxelles, mentre la parte restante di cofinanziamento nazionale. Il sostegno dell'innovazione, la competitività delle piccole e medie imprese, la protezione dell'ambiente, il miglioramento dei servizi sociali costituiscono i pilastri del piano. Si prevede l'investimento di un miliardo di euro per progetti di innovazione e internazionalizzazione delle imprese pugliesi. Più di 600 milioni sono destinati alla ricerca e allo sviluppo fra centri di ricerca pubblici e privati, 272 milioni per la banda larga ultraveloce. Per la protezione ambientale sono stati destinati un miliardo, 462 milioni per le infrastrutture, un miliardo di euro sarà impegnato per promuovere l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, mentre 754 milioni per favorire l'istruzione e la formazione lavoro. L'impatto di queste risorse sulla nostra regione include la creazione di 1.500 nuove imprese, un piano ambizioso che darà il via a investimenti su larga scala e che si spera dovrebbe creare migliaia di posti di lavoro.